L'attrice Rosalinda Cannavò alias Adua del Vesco nella bufera. Pesantissime le accuse contro l'ex GFina, dietro di lei una setta. Rosalinda Cannavò al centro di pesanti accuse. L'attrice ha visto crescere notevolmente la sua popolarità e notorietà dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 5, programma nel quale si è messa in gioco a tutto tondo e nel quale ha mostrato lati di sé inediti. Molte sono state le confessioni fatte dalla giovane siciliana che nella casa più spiata d'Italia si è, spogliata, anche del suo nome d'arte storico, Adua del Vesco. Alcune sue dichiarazioni inerenti l'aura mai fallita casa di produzione di fiction, Ares, hanno fatto davvero scalpore. Ora è lei nel mirino delle accuse. Ecco che cosa è successo in diretta tv. Il produttore Alberto Tarallo è stato tirato in ballo spesso anche in maniera indiretta durante il programma GF Vip 5. L'uomo ha replicato a tutte le accuse durante la puntata di ieri di Non è l'arena. Qui ha speso parole piuttosto dure nei confronti della giovane attrice siciliana. I giornalisti hanno inventato cose assurde, messe nere, statue cui la gente si doveva inginocchiare. È come imparare a convivere con un cancro, è un dolore. Ho vissuto sei mesi la depressione di Teo spiega il produttore poi il suicidio di Teo. Vedere in televisione una persona a cui hai dato solo amore dire quelle cose. Tutto quello che abbiamo fatto è stato fatto per lei. Ne beneficiava. Tarallo ha poi insinuato che dietro il comportamento tenuto da Rosalinda nei confronti suoi e del suo grande amore Teodosio Losito ci sarebbe un qualcosa o qualcuno che l'abbia spinta. Tutti mi dicono che devo distruggerla. Ma io non riesco ad odiarla. Le ho voluto veramente tanto bene. Io ho delle idee molto precise. Adua è una ragazza molto fragile. Io credo che lei sia entrata in un gioco più grande di lei. Credo che lei non si sia resa conto del male che mi ha fatto e che fa anche a Teo. E ancora. Lo so cosa c'è dietro. È una sporca storia di soldi. Di una persona che non era riuscita a ingannare Teo. Quella era veramente una setta. Adua è uno strumento. Nelle scorse puntate del programma condotto da Massimo Giletti il produttore aveva parlato a tal proposito di una sorta di santone. Il produttore aveva parlato da Massimo Giletti Adua è un'ottimasomilina. Adua è un'ottimasomilina. Adua è un'ottimasomilina. La una persona che ha trovato a Tadani e un'ottimasomilina.